Dal dibattito di stamattina è emerso in modo abbastanza unanime che, anche se non è pienamente efficace, pur con tutti i suoi difetti, è di fatto l'unico sistema che attualmente si può adottare perché i sistemi a ripartizione e il metodo retributivo si è visto che non funzionano, mentre il sistema contributivo tutto sommato garantisce sostenibilità e anche equità sociale. Certo, ha il grosso difetto di porre sulle spalle dei singoli individui un onere importante che è quello di costruirsi la propria pensione futura sostanzialmente da soli e questo può creare problemi di adeguatezza, specialmente in un mondo come il nostro dove le professioni scontano discontinuità, precariato, alternanza di redditi e poi ovviamente nella nostra vita ci può succedere di tutto una malattia, genitorialità, situazioni di difficoltà di lavoro che vanno ad incidere sulla continuità di una carriera contributiva e quindi sulla pensione.